che è tutto in pompa ciao ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video ragazzi oggi siamo su gta 5 online video gameplay molto semplice perchè vi devo parlare di un argomento molto importante ragazzi la rockstar da ieri precisamente sta regalando dei soldi gratuitamente agli utenti di gta 5 online quindi ai giocatori perchè ragazzi questa cosa sta regalando dei soldi per il quarto anniversario del gioco ragazzi sapete che comunque gta è uscito da 4 anni e ieri ho visto proprio il video da mr boss youtuber americano lo sapete sta regalando dei soldi e non sono pochissimi diciamo che sono 3 cifre ed è casuale la cifra ecco ragazzi si parla di 200.000 dollari 300.000 dollari addirittura un milione di dollari io non li ho ancora avuti la cifra è casuale è una di queste 3 cifre ragazzi che avremo ed è casuale quindi potremmo avere anche un milione o 200.000 o 300.000 diciamo che è un regalo non è utilissimo però il milioncino di dollari potrebbe essere utile per chi sta iniziando a giocare adesso questo è un regalo per il quarto anniversario per ringraziare i miei giocatori dell'utenza eccetera eccetera però comunque non sono tantissimi soprattutto se ci vanno a capitare i 200.000 dollari non sono comunque tanti questo è un video per avvisarvi controllate magari la vostra play cioè accendete su gta e ditemi se avete avuti soldi qua sotto nei commenti scrivetemi alex ho avuto tot soldi e ditemi anche se qualcuno è stato sculato davvero un milione di dollari io ancora non ho avuto niente ho appena acceso adesso ma non mi hanno dato niente e io comunque ho sempre i miei soldi moddati però di regola esce il messaggio raga quello sullo schermo che ci hanno accreditato questi soldi nella banca ditemi nei commenti se li avete avuti perché è da ieri che stanno regalando questi soldi quindi una di queste tre cifre e ditemi soprattutto se qualcuno di voi ha avuto un milione di dollari da ieri è partito dall'America ma penso che anche in Italia qualcuno li abbia avuti a parte che non ho neanche avvisato è una cosa diciamo a sorpresa che sta facendo la Rockstar proprio a sorpresa così alcuni americani se ne sono accorti tipo Mr. Boss ragazzi ripeto per capire se avete avuti soldi esce il messaggino quello iniziale che la Rockstar ci ha regalato tot soldi che verranno accreditati nella Maze Bank sapete raga classico messaggino vecchio vecchio ecco diciamo così mi sto sfracellando ma dettagli niente ragazzi era un video per avvisarvi di questo ditemi nei commenti se avete avuto questi soldi io ancora no comunque vi avviso se me li danno magari su Telegram entrate nel mio canale Telegram link in descrizione ragazzi entrateci tutti perché là metto quando faccio video quando faccio la live avviso tutto ragazzi avviso di tutto e seguitemi anche su Instagram link in descrizione per questo video è tutto ditemi nei commenti se qualcuno di voi ha ricevuto questi soldi noi ci vediamo al prossimo video lasciate un like iscrivetevi al mio canale condividete questo video con i vostri amici per questo video è tutto noi ci vediamo al prossimo video bene ragazzi ciao ciao Grazie a tutti.